Ciao e bentrovato sul canale Il Segreto del Samadhi. Sicuramente tante volte ti sei sentito sconfitto e abbandonato, anche dalle persone che ami. Grazie a questo breve racconto, riuscirai a superare ogni difficoltà e a trovare la forza dentro di te. C'era una volta un contadino che aveva un asino anziano, il quale non svolgeva molto lavoro. Un giorno, mentre pascolava nei campi aperti, improvvisamente cadde in un pozzo profondo e stretto, da cui non riusciva ad uscire. Era spaventato e iniziò a ragliare così forte che un passante lo sentì. Quest'ultimo allertò subito il contadino, che giunto sul posto si rese conto di non essere in grado di aiutare l'animale da solo. Andò quindi al villaggio a cercare aiuto. Tornò con diverse persone, ma nessuno riuscì a risolvere la situazione. Il contadino era in lacrime. Dopo aver fatto molti sforzi vani, si convinse che l'asino era vecchio e decise di lasciarlo morire coprendolo di terra. Quindi i presenti presero una pala e cominciarono a buttare terreno nel pozzo. Quando l'asino si rese conto di ciò che stava succedendo, si rattristò ancora di più. Era già in un mare di guai e il suo padrone aveva deciso di seppellirlo vivo. Cominciò a piangere forte, ma le persone non si fermavano. Il contadino prese coraggio e guardò finalmente dentro il pozzo. Rimase senza parole nel vedere che ad ogni pala di terra che gli cadeva addosso, l'asino scuoteva la schiena, facendola cadere e salendo su di essa. Aveva capito che la montagna di terra lo avrebbe salvato. Una volta uscito, scappò, perché si rese conto del poco amore del suo proprietario nei suoi confronti. Quando incontri ostacoli nella tua vita e non capisci cosa fare, non devi spaventarti all'idea di affrontarli. Piuttosto, utilizzali come trampolino per avanzare. Se l'asino della storia avesse perso il coraggio, la sua morte sarebbe stata certa, ma lui non si è abbattuto ed è riuscito a trovare una soluzione. Devi agire nella stessa maniera. Impara a pensare con calma e trasforma le difficoltà in opportunità per realizzare qualsiasi cosa. E tu? Nella vita ti senti più come il contadino o come l'asino? Se vedi che i problemi sono grandi, rinunci o da loro trai la forza per affrontarli? Scrivilo nei commenti. Ti aspetto nel prossimo video. Buddha ti benedice.